Quando parlavi di golf veramente non è una battuta, la gente pensa ancora al maglione, al plover. Poi grazie a Dio ora, grazie ai fratelli Molinari, a Manassero, a Galli, a Canogli, a tutti i giovani professionisti che stanno affrontando il tour, si è un po' sdoganato. Grazie anche soprattutto ai media che li stanno trattando un po' di più. E ovviamente tutto questo per il fatto che avallare la letteria, fin da quando ero piccolo, è uno sport eccessivamente accessibile. Adesso veramente ti basta un paese carta ginnastica. Ormai ci sono formule di abbonamento di ogni tipo, la roba la puoi trovare usata. A me mi direttiva sempre questa cosa, dicevano che il golf è uno sport per ricchi. Poi magari andava a fare una settimana bianca e spendevano 3 milioni, adesso hanno 2.500 euro. Iscriversi a un campo di golf può andare da 500-600.000 euro a seconda del campo di golf, poi ovviamente con quelli un po' più esclusivi costa un po' di più. Certo. Magari non di tutti comunque ha un... Guarda, io ti dico, io adesso sto aprendo un campo di golf nuovo a Roma, che si chiama Terre dei Consuli a Monterosi, dove noi addirittura abbiamo fatto una formule di abbonamento come la palestra. Abbiamo preso a pari passo tutte le tipologie, quindi abbiamo 14 famiglie non famiglie, va solo la mattina, va solo le pomiglie. È un campo che hai preso in gestione o che... È un campo fatto da Caltagirone e vi farò il direttore lì dentro. Grazie. 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 Grazie.